ciao ragazzi sono a Cisliano nella più grande struttura italiana dove si pratica il paintball pensate che qui ci sono circa 20.000 metri quadrati di bosco dove poter giocare domenica Poveriggio in famiglia stiamo andando a giocare a paintball e mio padre è in dottore ma consiste che ci sfideremo con un altro gruppo ma secondo me faccio a cagare stiamo aspettando quel minchione di rovazio noi abbiamo staccato tutti da dietro grazie a tutti abbiamo finito la partita io sono stato imbattuto allora